L'RT in Sardegna ha raggiunto il valore di 2,24, l'isola comunque continua ad essere classificata a rischio moderato. I riformatori sardi contro la gasiera nel porto di Portovesme, i consiglieri regionali Sara Canu e Michele Cossa hanno sollevato il problema con un'interrogazione all'assessore dell'industria. Carbonia e i Sulcis piangono Renato Monticolo, morto ieri a 76 anni, professore e dirigente scolastico molto stimato, è stato consigliere comunale e provinciale. Nel 1993 arrivò ad un passo dall'elezione a sindaco di Carbonia. Il Carbonia si è iscritto al campionato di Serie D, resta in piedi il problema dello stadio Carlo Zoboli sul quale l'assessore dello sport ha annunciato che investirà il consiglio comunale. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Sono 246 nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 3.774 test eseguiti, con una percentuale dunque del 6,52%. Si registra un nuovo decesso, i ricoveri ospedalieri sono 60 e sono pazienti in area medica, più 13 rispetto al report precedente e 4 invece in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.441 le persone in isolamento domiciliare. A preoccupare nell'isola è il valore dell'indice di trasmissibilità del contagio RT, che ha raggiunto il valore di 2,24, il doppio rispetto a 1,12 della scorsa settimana. La Sardegna continua ad essere classificata a rischio moderato e per incidenza dei casi e in testa con 82,8 su 100.000 abitanti. Restiamo in tema. Dopo circa un mese con zero casi, a Porto Scuso si registrano tre persone positive al virus nel territorio comunale. Ne ha dato comunicazione ieri il sindaco Giorgio Alimonda. Non ci è dato sapere se trattasi di variante denominata Delta, ma comunque sono state attivate le misure di isolamento e tracciamento dei contatti, ha aggiunto il sindaco di Porto Scuso. Al momento ci sono stati notificati due casi di quarantena obbligatoria. Dalle notizie in nostro possesso le persone stanno tutte abbastanza bene, anche perché abbastanza giovani. La situazione generale è pur sotto controllo e impeggioramento, anche raffrontata quella della Sardegna, ha concluso Giorgio Alimonda. Si raccomanda pertanto tutti i cittadini e i turisti a osservare la massima prudenza nei comportamenti, ponendo in essere tutte le notte misure anticontagio, distanziamento e assolutamente proseguire con le vaccinazioni. Prenderà il via nei prossimi giorni ad Iglesias la vaccinazione degli studenti e del personale docente e non docente delle scuole secondarie di primo grado delle scuole medie. Vediamo il servizio. Presso la sala riunioni del comune di Iglesias si è tenuta la riunione operativa convocata dall'assessore della pubblica istruzione Alessandro Lorefice per la programmazione della campagna vaccinale dedicata agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole secondarie di primo grado, le scuole medie. Alla riunione hanno partecipato il sindaco Mauro Usai, il dottor Giuseppe Ottaviani, coordinatore della campagna vaccinale nel territorio del Suciglesiente e le dirigenti scolastiche professoressa Franca Fara per l'istituto comprensivo Wallori e la professoressa Liviana Liccheri delegata per l'istituto comprensivo Eleonora d'Arborea. La professoressa Gabriella Picci dirigente dell'istituto comprensivo Nivola ha partecipato in collegamento del remoto. Nei prossimi giorni con la collaborazione degli istituti scolastici verrà stilato un calendario per individuare i giorni dedicati alle vaccinazioni e i turni per presentarsi presso l'hub vaccinale. Successivamente verrà comunicato ai docenti, al personale non docente e alle famiglie degli studenti che aderiranno all'iniziativa il proprio turno per la somministrazione del vaccino. Cambiamo argomento, i consiglieri regionali dei riformatori Sardi, Sara Cano e Michele Cossa si schierano al fianco del comune di Porto Scuso contro l'insediamento di una nave gasiera permanente nel porto industriale e servizio. I riformatori Sardi in consiglio regionale dicono no alla nave gasiera nel porto di Porto Scuso. Consentire che una nave gasiera venga ormeggiata in modo permanente nel porto industriale di Porto Vesme è un errore e rappresenta una decisione non sostenibile dal punto di vista ambientale, della sicurezza è non accettata dalla comunità, costituisce anche un ostacolo per il futuro di importanti aziende già presenti nel polo industriale di Porto Vesme così come di nuove imprese che hanno già chiesto di potersi insediare. E' questo l'allarme lanciato dai consiglieri regionali dei riformatori Sardi, Sara Cano, capogruppo in consiglio regionale e Michele Cossa che attraverso una interrogazione scritta rivolta al Presidente della Giunta e all'assessore dell'industria Nita Pili denunciano la possibilità che una nave con una capienza di 100.000 metri cubi di GNL possa occupare in maniera permanente la banchina est di 400 metri di lunghezza del porto urbano di Porto Vesme. Sono gli stessi consiglieri regionali a ripercorrere la storia della banchina est che fu realizzata con soldi pubblici, spiegano, per trasferire più lontano dall'adiacente abitato di Porto Scuso e dal traffico civile per la vicina Carloforte un milione di passeggeri l'anno, la movimentazione di merci sfuse particolarmente inquinanti o comunque impattanti per polverosità sulla popolazione. Di contro, aggiungono Sara Cano e Michele Cossa, la presenza di una nave nella vicina banchina est che dista un chilometro in linea d'aria dall'abitato di Porto Scuso, tre chilometri dall'abitato di Parinciano e dieci chilometri da Carloforte costituirebbe un grave pericolo per la popolazione e per i lavoratori impiegati nelle attività, già di per sé, a rischio dell'aria industriale. Un pericolo già segnalato dal Comune di Porto Scuso che ha espresso la più netta e ferma contrarietà ad una soluzione di questo genere e la volontà di ricorrere contro una simile iniziativa in tutte le sedi istituzionali e giuridiche, anche quelle europee. I due consiglieri dei riformatori, evidenziando il pericolo che la permanenza della nave gasiera creerebbe, hanno sottolineato l'importanza dell'infrastruttura e la necessità di una piena valorizzazione. Il porto, fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'area industriale di Porto Vesme, anno concluso, meriterebbe maggiore considerazione e adeguati finanziamenti per diventare competitivo a livello globale. Nei primi anni 2000 transitavano 6 milioni di tonnellate all'anno di merci, mentre la presenza permanente di una nave gasiera condizionerebbe fortemente l'attività dello stesso, con gravi conseguenze sull'ambiente e limitazioni anche sull'occupazione attuale e futura. Carbonia e il Sulcis piangono. Renato Monticolo, uomo di grande cultura, professore e dirigente scolastico, molto stimato da studenti e colleghi, già consigliere comunale e provinciale, è deceduto ieri all'età di 76 anni. Di formazione socialista, sempre impegnato nel campo del centro-sinistra, una volta arrivato alla pensione nella scuola, ha lasciato anche l'impegno politico, che nel 1993 lo portò ad un passo dall'elezione al sindaco di Carbonia, battuto per soli 159 voti nel ballottaggio con Antonangelo Casula. Alla famiglia le condolianze della redazione di Canale 40. Andiamo avanti. Gianluigi Loru, 46 anni, ex capogruppo di minoranza uscente, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Perdagius. Guiderà la lista Perdagius in Paris, composta da un gruppo di donne e uomini che vivono in paese ed il paese pronto a mettersi a disposizione di tutta la collettività, lasciando alle spalle invidia e astio che non giovano la nostra comunità. Abbiamo sempre sostenuto che Perdagius debba recuperare attraverso un nuovo programma politico la propria identità con una nuova visione culturale, urbanistica e sociale. Centro urbano e campagne unite da un legame indissolubile con un progetto unitario che guarda la vita quotidiana giovani e non, ha detto Gianluigi Loru. Cultura, sport, idee e nuovi progetti, qualità della vita. È così che svilupperemo Perdagius nei prossimi anni, unendo i tratti identitari con un disegno funzionale e moderno. Bentornati in studio. I lavori di Anas per il rifacimento del ponte non sono ancora terminati, ma ad inizio agosto tornerà ad essere transitabile in entrambi i sensi di marcia la strada statale 126 alle porte di Isganaus all'ingresso sud di Carbonia. Sentiamo il servizio. Nei prossimi giorni verrà ripristinato il doppio senso di circolazione sulla strada statale 126 nei pressi di Isganaus dove sono in corso da parte di Anas lavori da mesi per il rifacimento di un ponte. Ci è voluto un po' di tempo, tra cui due lettere di intervento dal prefetto, ma alla fine abbiamo trovato la quadra per risolvere il problema del senso unico alternato sulla strada statale 126 all'altezza del ponte di Isganaus, ha spiegato il sindaco di Carbonia Paola Massidda. A partire dai primi di agosto, mese in cui il traffico verso le località balneari è più intenso, la ditta esecutrice delle opere di manutenzione del ponte sposterà l'allestimento di cantiere a lato della pista ciclabile. Ancora qualche giorno, giorni necessari al direttore dei lavori per spostare materiali e cantiere e riavremo la possibilità di attraversare il ponte con il doppio senso di marcia, senza più disagi sinora subiti, per dei lavori che risultano però necessari ai fini della sicurezza di noi tutti, ha concluso Paola Massidda. Un grazie va all'ingegner Mario Mammarella della provincia del Sud Sardegna per la collaborazione e all'ingegner Barbara Porcu dell'ANAS per la disponibilità dimostrata. Passiamo ora alla cronaca. Questa mattina ad Iglesias i carabinieri del radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza un 33enne operaio incensurato residente a Gonnesa. L'uomo è stato fermato mentre era alla guida del proprio veicolo RAV4 Toyota in stato di ebrezza alcolica accertata mediante etilometro. La patente di guida gli è stata dunque ritirata. Dopo il periodo di sospensione l'interessato potrà avviare le pratiche necessarie per poter aspirare a recuperarla. Sabato 24 luglio alle ore 11 a Gonnesa presso lo stabilimento balneare Sapore di Mare a Spiaggia di Mezzo è in programma l'incontro Alimentazione e Benessere per la campagna di sensibilizzazione ad uno stile di vita sano. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Blue Sardinia SD in collaborazione con il comune di Iglesias nell'ambito della campagna di sensibilizzazione del progetto IT Sardegna. Nel corso dell'incontro la nutrizionista dottoressa Elena Puddu parlerà degli stili di vita sani e dell'alimentazione più indicata nel corso dei mesi estivi. Verranno inoltre distribuiti ai presenti test e questionari sull'argomento. Il delfino e la tartaruga realizzati da Benito Lazzarini sono diventati due simboli di Porto Torres. Due amici dello scultore scomparso lo scorso novembre, Angelo Dedola e Mastro Antonio Congiatu, armati di pennello, hanno dato una rinfrescata alle due opere collocate nella spiaggia dello Scoglio Lungo e a Balai Vicino. Al termine dell'intervento sono stati ringraziati dalla signora Lazzarini e dal figlio Emanuele. E' intervenuta anche l'assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco che ha annunciato che sotto la tartaruga di Balai sarà collocata una targa in memoria dell'autore. Un segno di riconoscenza verso un cittadino di Porto Torres che con la sua generosità e creatività ha regalato alla comunità due monumenti entrati nel cuore di tutti. Due giornate per celebrare l'oro di Banari, la cipolla dalla caratteristico sapore dolce dal profumo che racchiude gli odori della macchia mediterranea del territorio banarese. Sabato 24 e domenica 25 Banari aprirà le porte ai visitatori per la sagra della cipolla. Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, l'associazione turistica Proloco Banari, guidata dalla presidente Luciana Sassu, ha cercato di portare avanti le attività e il compito di valorizzazione del territorio che da sempre la contraddistingue, organizzando una sagra di due giornate ricca di eventi che permetteranno di godere a pieno dell'offerta locale. Proprio nel periodo della raccolta della cipolla dorata, la Proloco ha scelto di organizzare la sagra celebrativa, mettendo in mostra quanto la comunità banarese può offrire in ambito enogastronomico e culturale. Cambiamo argomento, sono state riaperte oggi la sala studio e la sala lettura della biblioteca comunale Nicono Cannelles di Iglesias. La biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 19. Potranno utilizzare le sale solamente gli utenti iscritti alla biblioteca. Per iscriversi occorre rivolgersi al personale in orario di apertura. Per utilizzare le sale sarà necessaria la prenotazione al numero di telefono 0781 41795. Gli accessi saranno consentiti in due gruppi al mattino e due gruppi alla sera. Ogni utente potrà utilizzare le sale della biblioteca per massimo due volte alla settimana. Mercoledì 28 luglio in piazza Umberto a Sant'Antioco alle 21 e 30 si terrà il concerto vocale, strumentale Celebri Melodie, intramontabili melodie in un percorso fra musica e versi che vedrà protagonista il gruppo cameristico Ensemble Porrino di Elmas. L'appuntamento musicale sarà caratterizzato dall'esecuzione di celebri melodie di autori, epoche e stili vari, tradizionali e popolari, anche sarde, di vario genere, interpretate in forma colta e in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d'insieme in grado di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro. Apriamo con gli eventi la terza parte del nostro TG40, giro di Boa per il 31esimo Festival Anarcao Blues. La terza serata verrà aperta da Roberto Lutti, il chitarrista già sul palcoscenico di Piazza Europa nell'estate del 2015 con il collettivo Playing for Change. Riflettori puntati nella seconda parte della serata su Kaz Hawkins, cantante e cantautrice nordirlandese e dalla biografia intrisa di violenza e dolore, vinti proprio grazie al potere della musica. Sabato, la quarta serata del festival prenderà il via con il chitarrista statunitense Neil Black che lascerà poi il palco alla Latvian Blues Band. Domenica sera gran finale, prima il docufilm The Search di Diego Pani che racconta il viaggio compiuto nel profondo sud degli Stati Uniti dai sulcitani Donato Cherchi e Matteo Leone, componenti del duo Don Leone, poi infine i cagliaritani King Owl. Festival Pedras e Sonus, ecco gli appuntamenti dell'Unione dei Comuni, parte Montis e Alta Marmilla. Vediamo insieme il servizio. Ada Montellanico, Franca Masu, Cettina Donato, Zoe Pia, Dario Cecchini, Roberto Denitis e Nanni Gaias sono alcuni dei nomi che caratterizzeranno la quarta edizione del festival Pedras e Sonus che dal 17 al 24 agosto interesserà i centri di Gonostramazza, Masullas, Mogoro, Pompu, Siris e una tappa nei comuni di Ales, Curcuris e Pau. Continuiamo a credere che la cultura debba resistere, che la musica e l'arte siano il veicolo di conforto in questo mare di incertezze e di paure, ha detto la direttrice artistica Zoe Pia. La quarta edizione del Pedras et Sonus Jazz Festival continua, illuminerà il territorio del Parc de Montis e di due nuovi comuni, Curcuris e Ales. Abbiamo intessuto nuovi rapporti di collaborazione con nuovi partner del mondo dell'arte che hanno sposato le nostre idee e il nostro progetto e che credono, come noi, sull'importanza di costruire, sempre e comunque, sull'onda di una costante energia positiva. Nei momenti di crisi l'arte sprigiona la sua forza, permettendo alla creatività di emergere per trovare il giusto rimedio allo stato di incertezza che si vive addosso. La magia della musica, l'incontro delle arti e la gioia di poter illuminare il nostro territorio, ricco di eccellenze, sono il cuore pulsante del Pedras et Sonus Jazz Festival. Il 31 luglio alle 21.45, nello scenario della chiesa della Madonna del Carmine a Mogro, andrà in scena l'anteprima che vedrà protagonista la cantante newyorkese Joyce Helen Yule, che, accompagnata dai suoi The Hammond Groovers, dialogherà nello spazio dedicato alle vetrine sonore con la giovane e talentuosa artista mogorese Eleonora Piras, in arte e le paint, e il suo trucco pittorico. Pioggia di medaglie per la scuola di ballo Magalegna Rodens di San Giovanni Suergio, dei maestri professionisti Roberto Paulesu e Romina Dei, dal campionato italiano disputato a Rimini nei giorni scorsi. Gli atleti tornano a casa con 36 medaglie d'oro, 15 medaglie d'argento e 28 medaglie di bronzo. Sentiamo Francesca Rios. Pioggia di medaglie per la scuola di ballo Magalegna Rodens di San Giovanni Suergio, dei maestri professionisti Roberto Paulesu e Romina Dei, dal campionato italiano disputato a Rimini in questi giorni. Gli atleti tornano a casa con 36 medaglie d'oro, 15 medaglie d'argento e 28 medaglie di bronzo. Per la disciplina solo tecnica latin style, la classe più alta, ossia la classe A nella categoria degli over 17, è stata vinta dall'atleta di San Giovanni Suergio, Elisa Porchedu, la classe B dall'atleta, sempre di San Giovanni, Alexia Wagershauser e la classe C da Melissa Wagershauser. Medaglia d'argento, classe C per Maria Chiara Melis e Gemma Melis, Alice Congia. Per i duo latin style, freestyle, classe B, ancora vittoria per Emma Lai, Alexia Wagershauser, medaglia di bronzo per Eleonora Kessa e Michelle Zanza. Per la classe C, duo, medaglia d'oro nella categoria 8-9 anni per Vittoria Montaldo e Matilde Multari. E ancora vittorie anche nella categoria 10-12 anni, oro per Gemma Melis e Nicoletta Cara. Nella categoria 15-16, sempre oro per Maria Chiara Melis e Martina Milia. Per la 13-14 anni, medaglia d'argento per Aurora Schintu di Carbonia e Adriana D'Aiello. Medaglie d'oro anche per gli over 31, Gianni Pilloni, Deborah Pinna, Daniela Pizzianti e Lenia Milia. Questa strana stagione da pandemia senza competizioni, hanno commentato orgogliosi i maestri Roberto Pauleso e Romina Deida, ci è servita per crescere e approfondire maggiormente un lavoro tecnico di immagine e di mental training che in un agonista non può mancare. I ragazzi hanno studiato tanto con noi per riuscire a fare la differenza con entusiasmo, senza perdere di vista l'obiettivo. Infatti, al campionato, hanno concluso i maestri, abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato. Sono scaduti alle 18 di ieri termini per l'iscrizione al campionato di Serie D di calcio 2021-2022. Tra le 169 squadre iscritte c'è anche il Carbonia. All'appello mancano solo due squadre della provincia di Belluno, il Belluno e l'Union San Giorgio Sedico. La documentazione fornita dai club passerà ora all'esame della CovisoD, che comunicherà l'esito dell'istruttoria entro lunedì prossimo per gli eventuali ricorsi, il termine è fissato al 28 luglio alle ore 14. Il giorno successivo la stessa Commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale di Lettanti. La decisione finale sulla missione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale di Lettanti. Vediamo un servizio curato da Giampaolo Cirronis. Il Carbonia Calcio sarà regolarmente al via del prossimo campionato di Serie D 2021-2022. La società, guidata dal Presidente Stefano Canu, ha superato le incertezze dei giorni scorsi e ha presentato la domanda di iscrizione entro i termini previsti, che scadevano ieri alle 18. Quello di ieri è il primo passaggio per l'avvio della nuova stagione. Resta in piedi il problema dello stadio, per il quale c'è da registrare l'intervento di ieri dall'assessore dello sport del Comune di Carbonia, Valerio Piria, che in una nota ha scritto che ad oggi al Comune di Carbonia non è pervenuta alcuna polizza fiduciusoria a garanzia della rateizzazione del debito, né si è provveduto a sanarlo. Quindi è impossibile, ha sottolineato Valerio Piria, dare in uso alla società lo stadio Zoboli. Poiché mi viene richiesto un impegno pubblico per la vicenda, oltre quanto è consentito ad un rappresentante politico, poiché si continua a raccontare ai cittadini e tifosi soluzioni non possibili, poiché non può ricadere su un sindaco una decisione non possibile. Dal punto di vista amministrativo, avendo a cuore come tutti le vicende della prima squadra della città, intendo portare in consiglio, ha concluso Valerio Piria, e rimettere al voto sovrano dello stesso, un atto in cui si chiederà la possibilità di utilizzare lo stadio da parte della società, a prescindere dai debiti e dalle mancate garanzie di assolvimento. Questo atto sarà verosimilmente corredato da pareri negativi dei dirigenti preposti al Consiglio alla scelta. Come è corretto, tutto sarà pubblico e trasparente, il risultato darà una risposta ai cittadini una volta per tutte. Nei prossimi giorni, intanto, la società dovrà scegliere il nuovo allenatore e iniziare la costruzione della squadra, che presumibilmente sarà profondamente diversa da quella che ha concluso brillantemente il campionato lo scorso 13 giugno, con diversi calciatori che si sono già casati in altre squadre. Continuiamo e chiudiamo con il calcio. Dopo i primi quattro nuovi arrivi annunciati ieri, altri due nuovi arrivi ed una conferma in Casa Torres. Il progetto rosso-blu affidato alla guida di mister Alfonso Greco continua a prendere forma. In sede continua incessante il lavoro del direttore sportivo Andrea Colombino. Un quarto arrivo dal latte dolce costituito da Niccolo Antonelli, difensore centrale classe 1990. Un fuori quota di qualità è approdato alla corte di Alfonso Greco, l'attaccante Kujabi Califa, nato in Gambia nel 2000, lo scorso anno in Forza al Muravera, in gol nel derby di ritorno con il Carbonia. La conferma è quella del centrocampista centrale Samuele Pinna, sassarese classe 2001. Si chiude qui il nostro telegiornale odierno, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e con Noasa in corso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione, io vi auguro un buon proseguimento e un buon fine settimana.